Allora, eccoci qua su CD Skyline, dopo la partita che ho fatto lì su Snowfall. Allora, in questo video io volevo, diciamo, provare a trattare un tutorial, un'introduzione alla schermata i comandi per la versione console, in quanto ho visto che adesso il gioco è scaricabile con il PlayStation Plus e mi rendo conto che non avere l'italiano potrebbe essere un po' frustrante. Ecco, sì, per un gioco dove qui ti trovi tante cose da fare e potresti non sapere cosa fare nello specifico. Quindi spero appunto con questo video di offrire un tutorial iniziale così da poter fare partite su CD Skyline, ecco, senza doversi preoccupare troppo con stare lì a guardare cosa significa oppure cosa dovrei fare nello specifico. Allora, iniziamo con un nuovo gioco. Selezioniamo una nuova mappa, prendiamo la prima, ok, e iniziamo. Allora, metto Milestorm tutti sbloccati e soldi infiniti. Questa modalità è molto utile per, diciamo, iniziare così che uno si può aggiustare con i vari edifici, le varie meccaniche, senza doversi poi preoccupare dei soldi, quindi distruggi l'edificio, ricolloga l'edificio, quindi è rilassante, diciamo, senza doversi preoccupare troppo. Ah, sì, iniziamo. Ed eccoci qua. Allora, quello che possiamo vedere nel pannello, mettiamo pausa con L3, è quadrato, demoliamo gli edifici, triangolo, che andiamo a vedere dopo, inspector, che vedremo anche questo dopo, i vari tipi di strade che possiamo andare a costruire, le zone, che si viderono in zone abitative, in verdi, commerciali, in blu, questi sono le zone industriali e questi invece sono gli uffici. Qui abbiamo elettricità, acqua, riscaldamento utile per le mappe invernali, i rifiuti, va bene, i medici, questa è l'educazione, pompieri, vigili del fuoco, polizia, i vari tipi di trasporti pubblici, i divertimenti, parchi, i parchi giochi, gli edifici unici, i monumenti e questa è la modificazione del terreno. Dunque, ovviamente noi possiamo andare a selezionare con X e ci muoviamo con L1 tra le varie voci. Un altro modo che, diciamo, io trovo più semplice è selezioniamo la pagina, diciamo, il tipo di edifici che noi vogliamo costruire, premiamo freccetta su e ci apre la finestra con tutti gli edifici, cerchio, chiudiamo e via. Le strade, allora, come possiamo vedere abbiamo diversi tipi di strade, le rotatorie e così via. E questi sono i pedaggi, questi sono utili per alzare i soldi, però bisogna fare attenzione perché i pedaggi possono creare un rallentamento del traffico, quindi, insomma, come nella vita reale bisogna fare attenzione. Allora, facciamo un attimo la prima strada che ho sott'occhio, tiriamo una linea e via. Allora, come possiamo vedere, triangolo, premiamo triangolo e ci apre questa schermata. Allora, io ho fatto strict, quindi strade dritte, uno però può anche decidere di fare una strada curvata. Decidiamo il grado di curvatura, costruiamo e via. Oppure a forma libera. Facciamo dritto, poi facciamo così. Facciamo così, vediamo, tiriamolo giù per di qua. Ed eccoci qua. Insomma, uno si giostra come vuole. Questo invece ci dà il cambio di direzione. Per esempio adesso questa strada va per così. Se io premessi, si invertirebbe il senso di marcia. Cos'altro? Questo è per riparare, questo per modificare le strade, ecco. Se per esempio io qui ho costruito una, inspector x, seleziono il nome della strada e ci dice che è una four lane road. Una four lane road, se io per esempio la volessi rendere una four lane road con alberi decorativi, quello che faccio è seleziono alberi decorativi, premo triangolo, vado su upgrade e l'aggiorno. Permesso, grazie. Ed ecco fatto. Questo è molto utile, bisogna fare attenzione però con le strade 2, 4 e 6. Ovviamente andandole a ingrandire, si ingrandiscono e questo può causare dei conflitti di spazio con un'altra strada. Passiamo così. Un'altra strada qui accanto. Ora adesso sono 4 e 4 ma se fosse stata per esempio qui un 2, io questa la volevo rendere da 4 a 6 corsie, non lo avrei potuto fare, cioè l'avrei potuto fare. Però lo spazio si sarebbe ridotto molto delle case, quindi bisogna fare attenzione allo spazio che combacia. Se però, se però, al posto di semplici edifici comuni come appunto case, zone commerciali, quello che volete, avessi collocato qui, ecco per esempio qui vediamo, una strada o un centro medico, non l'avrei potuto fare perché ci sarebbe stato abbastanza spazio per allargare questa strada. Quindi bisogna fare attenzione agli edifici unici, ecco come questi qui, affinché non ci sia abbastanza spazio per migliorare le strade. Quindi teniamo d'occhio gli edifici unici. Dicevamo le strade e ok, quindi le prime cose da fare per iniziare la nostra cittadina è l'energia elettrica, giustamente, che qui non ho ma la facciamo subito. E la mettiamo con, vediamo, si è, posso mettere qui due paleoliche, tanto per, e questi sono i piloni di elettricità. Allora, i piloni di elettricità, non c'è bisogno di mettersi a fare, che ne so, lunghe file di piloni di elettricità per raggiungere tutto, tutti quanti gli edifici, le case che abbiamo costruito, ma basta semplicemente che, vediamo, facciamo subito, così, così, basta semplicemente che un pilone tocchi una zona, che vediamo qui, e subito questa, la distribuzione energetica, si distribuirà a tutti gli edifici che saranno collegati con la zona blu. Dunque, aspettiamo che questi si costruiscano, comunque sì, non c'è bisogno di fare lunghe catene, ma basta che tocchi la zona. Vabbè, l'acqua giustamente, noi costruiamo una pompa idrica, la costruiamo, e vabbè, tiriamo il nostro sistema. E stessa cosa facciamo, faremo, con l'inquinamento che purtroppo qui è una zona, eh, non proprio il massimo. Bisogna fare attenzione al tipo di corrente, perché questo può creare inquinamento. Oh, c'era un porticciolo qua. Va bene, quindi, in teoria, l'avrei dovuta mettere qua, vabbè, è uguale. Facciamo le fogne, eccetera, eccetera. E questo dovrebbe risolvere il problema. Dunque, quindi, sì, all'inizio nel costruire noi dobbiamo semplicemente fare una clinica, una stazione dei pompieri, e una della polizia. E all'inizio dovremmo essere a posto senza avere troppi problemi. Fare attenzione che, eh sì, infatti, qui non c'è... Se, appunto, andiamo a vedere questo... Questi con Cina, con Inspector... Ah, è andata via, peccato. Vabbè. Con Inspector, premiamo X, e ci diceva che c'era un problema di mancanza di un sistema fognario. Comunque, se qui andiamo a vedere... Questi pannelli cosa sono? Questo è centro edificio, quindi... Non lo so, vogliamo tenere d'occhio un edificio? Eh, e facciamo questo. Lo rinominiamo, lo possiamo spostare. Questo è il pannello del budget, che andiamo adesso a vedere. Quindi, premiamo triangolo, abbiamo la radio, e va bene. Le aree che possiamo comprare, dove poi possiamo edificare la roba. L'economia. Le tasse. Qui noi possiamo aumentare le tasse per le varie zone. Molto semplici. Questo è il budget dedicato al mantenimento, al funzionamento dei vari settori. Queste le strade, questo per la produzione di energia elettrica, e così via. L'educazione, i trasporti. Se premiamo triangolo, passiamo nella modalità budget notturno, possiamo chiamarlo così, dove appunto, qui possiamo aumentare o diminuire l'efficienza di questi edifici durante la notte e durante il giorno. A destra possiamo vedere le entrate e le uscite. Per adesso sono tutte uscite. Questi sono i prestiti. Adesso è tutto sbloccato, però, poiché ho sbloccato tutto. All'inizio invece noi possiamo prendere soltanto un prestito da 20.000, e poi con il tempo potremo chiedere prestiti sempre più grandi. E questo è appunto il pannello più nel dettaglio che ci dice da dove vengono i nostri introiti. Questa è l'economia, questo è l'info view, che poi andiamo a vedere. Trasporti, niente di che ci dice appunto le varie linee di trasporti presenti in città. Il milestone, che appunto più diventeremo grandi, più si sbloccheranno edifici. Gli edifici unici, che ci dice cosa dobbiamo fare per sbloccarli. Per esempio, nell'arco di trionfo noi abbiamo bisogno di 7.500 bambini, ragazzi, che vadano alle scuole elementari. La stessa cosa per i monumenti. Per sbloccare questi monumenti noi dobbiamo edificare questi edifici che vediamo a destra. Queste sono le policy. Queste sono le policy che possiamo attivare per quelli che noi dopo andremo a creare, ossia i settori o quartieri, uno li chiama come vuole. Se uno li legge, appunto questi portano diversi benefici, per esempio in questo caso i detentori di fumo. I cittadini hanno, del settore che andremo a individuare, hanno un minor rischio di incendio degli edifici, però c'è un costo aggiuntivo di 5 dollari, quello che è euro, per gli edifici. Quindi questo aumenta il costo del mantenimento in generale. Quindi questo, per esempio, vieta gli animali, che riduce la produzione di rifiuti, però riduce anche la felicità e così via. Questo, per esempio, aumenta l'educazione. Insomma, uno decide cosa fare nei propri distretti, che dopo andiamo a vedere. Stessa cosa per la tassazione, uno per esempio può aumentare la tassa degli edifici ad alta intensità, a bassa intensità, e così via. Insomma, uno se li legge e decide cosa costruire, cosa applicare, ecco, non costruire. Allora, come fare appunto questi, queste zone, questi distretti? Andiamo nella zona appunto, come ho fatto io, zone distretti. Uno se la disegna. Eccolo qua. E abbiamo fatto il nostro primo distretto. Path for Hills. Se noi andiamo a vedere con Inspector District, noi abbiamo uno stile di edifici che possiamo selezionare, europeo di default. Insomma, uno, questo qui è più per un aspetto grafico, carino. Questo ci dice, vabbè, il traffico qui non c'è niente. Come sempre, qui possiamo mettere, diciamo, il punto. Su questo tipo di distretto, se per esempio vogliamo fare qualcosa, però siamo impegnati a fare altro. Sono uscito dal distretto. Possiamo rinominarlo. Niente di che. E appunto, qui possiamo applicare le pollici. In questo caso, non so, mettiamo che c'è un controllo della produzione elettrica. E del consumo di acqua. Ecco qua le due icone che appaiono nel distretto. Per toglierle, bastere semplicemente andare qui, eccetera, eccetera. Niente di che. Stessa cosa per l'attassazione, i siti planning. E così via. Allora, un'altra cosa importante dei distretti sono appunto i distretti produttivi. Che qui adesso non abbiamo. Però appunto noi costruiamo un distretto. E lo applichiamo, non so, per esempio... Ah, tu mi produrrai prodotti di legno. Che ne so, tagliano legno, produvono mobili di legno. Insomma, lo faranno loro. Stessa cosa per l'agricoltura. L'estrazione di minerali. E la produzione di olio. Questi due distretti, tipi di distretti, sono, se non sbaglio, gli unici tipi di distretti industriali che non causano inquinamento. Mentre la produzione di olio, di estrazione minerale e il classico, che basterà semplicemente fare così, produrranno inquinamento del suolo. Poi qui abbiamo, per i distretti commerciali, specializzato nel turismo e specializzato nel divertimento. Che causano, diciamo, come aspetto negativo, inquinamento acustico. Ma è, diciamo, una cosa non poi così tanto problematica. Uno se la può gestire molto bene, il problema dell'inquinamento acustico. Un'ultima cosa sulle strade, che mi sono dimenticato di dire, è che, vabbè, forse uno può anche intuirlo, ma con le freccette su e giù, uno può abbassare il livello delle strade. Eccolo qua. Questo, diciamo, è un ottimo modo per collegare zone, strade, senza dover poi andare a sottrarre terreno edificabile. Infatti io qui posso costruire, come possiamo vedere. Oppure, non lo so, alzarla con freccetta su. Per esempio facciamo così. Freccetta su. E varie zone, insomma. Ovviamente qui, come possiamo vedere, mi è andato a togliere edifici. Vabbè, però, insomma, è anche bello da vedere. Questo bel cavalcavia, quello che è. Diciamo, le strade le abbiamo trattate. Sì, per aprire i pannelli uno basta che seleziona con X, L1, R1, scorre, oppure seleziona quello che vuole costruire, freccetta su, e si apre questa finestra a tendina, possiamo chiamarla. Uno si scorre i vari campi, le varie voci, e si costruisce quello che vuole. Ok, qui le abbiamo trattate tutti. Ultime due nuote sulle strade. Abbiamo strade con la barriera del suono. Questa qui, perché queste qui sono sbloccabili soltanto con il DLC Mass Transit, come possiamo vedere da l'iconcina lì in basso. E queste, diciamo, sono buone per quel tipo di strade, non so, che si inseriscono in zone abitative, oppure abbiamo, ecco, per esempio così, mettiamo caso questa è un'autostrada che poi si inserisce in una zona abitativa, le barriere del suono ridurranno il rumore del traffico. Stessa cosa faranno le strade alberate. Come possiamo notare, per esempio, nella sua descrizione. A Sixth Lane Road with Decoratory Sea, una strada a sei corsie con alberi decorativi. Le decorazioni diminuiscono l'inquinamento acustico. Quindi, nel caso, upgrade. Facciamo upgrade. Non so se l'ho già ripetuto, perché ho avuto una pausa nel video, quindi non so se l'ho già detto qui. Comunque, sì. Strade con alberi e ridurranno l'inquinamento acustico. Questo c'è, questo c'è. Ah, sì. Facciamo un attimo questo, il bus. Che è, diciamo, un aspetto, diciamo, problematico, che anch'io ho dei problemi, è la creazione di una linea. Ah, creiamo una linea. Allora, qui effettivamente non c'è molto. Ah, ok. Ok, no. Forse possiamo farla. Allora, questa è la strada. E c'è, appunto, la strada barrata, poiché il percorso non è stato completato. Ok, la selezioniamo. Creiamo i nostri, le nostre fermate del bus, seconda, insomma, di dove li vogliamo mettere, quali sono le zone più, così, più frequentate, cose così. Noi dobbiamo seguire il percorso della strada, in modo tale da ritornare a, sì, eccola qua, alla nostra stazione di bus. Quindi facciamo così, molto rapidamente. Seguiamo tutto il percorso della strada. Un'altra stazione qui è fermata, volevo dire. Eccoci qua, siamo arrivati. Complete line. Non l'ha fatta. Sì, l'ha fatta. Sì, bisogna aspettare un attimo. Dovrebbe averla fatta, sì. E ha completato qui la linea. Quindi bisogna seguire il percorso delle strade. Stessa cosa... No, i tram non hanno bisogno di questo. I taxi hanno soltanto bisogno di... Di fermare dei taxi, niente di che. E questo è. Qui sono i parchi. Tennis, basket. Parchi a tema magica. E cose varie. Edifici, abbiamo detto, che si sbloccano a seconda di determinate richieste. Stessa cosa per questi. E questo è il landfill. La landscaping. La modellazione del terreno. Allora, il primo aumenta, diciamo... Abbassa o alza il livello del terreno. In questo caso sto premendo X. E ho fatto questa bella montagnola. Se io premo quadrato... Ho fatto questo bel buco nel terreno. Questo invece è una... Come dire... Prendo questo come esempio. Seleziono questo. Diciamo che questo è più semplice se si vuole prendere appunto... Questo terreno come modello. Selezioniamo appunto con quadrato come ho fatto in precedenza. Premiamo X. E questo terreno raggiungerà il livello che ha questa zona che ho selezionato. Questo è per... Non ricordo bene cosa. Ah sì, questo è tipo... In livellare il terreno. Ecco, possiamo dire così. Questo invece per rialzarlo. Così, così, insomma. Uno se lo giostra come vuole. Come possiamo vedere abbiamo però una quantità di suolo modificabile. Questi sono i percorsi pedonali. I percorsi ciclabili. Un sentiero battuto. Alberelli con cui possiamo decorare... Le nostre case, le nostre cittadine e così via. Allora direi che su questo pannello abbiamo quasi detto tutto. Ah, sì, come possiamo dire, qui abbiamo delle icone che poi queste dopo non mi compaiono. Noi se premiamo Inspector e X con R3 ci dice che le fognature non sono ben collegate. Quindi per risolvere questo problema noi dovremmo andare in fognature. Sì, infatti, se notiamo qui ci dice che le fognature ha un problema di elettricità. Come risolviamo questo problema? Costruiamo, in questo caso ho messo delle paleo eoliche nell'acqua e questo dovrebbe risolvere il problema del funzionamento. Infatti, se andiamo con Inspector, adesso non c'è più però c'era la corrente rossa che significava che questo edificio aveva una scarsa quantità di energia elettrica per farlo funzionare. Qui adesso c'è il problema di, come sempre, delle fognature, però dopo andiamo a vedere. E poco a poco ecco qua che i problemi si risolvono. Allora, questo è introduttivo all'inizio, andiamo adesso su una mappa più avanzata dove andiamo a trattare altri aspetti. Allora, eccoci qua su Springdale, come possiamo vedere, una bella cittadina di 25 mila abitanti con tanti problemi. Da dove possiamo iniziare? Allora, riprendiamo dai distretti. Come avevamo detto, possiamo creare dei distretti a specializzazioni di produzione in ambito forestale, di agricoltura, estrazione mineralia, petrolio e questo è per i edifici commerciali, turismo e divertimento. Ora, premiamo triangolo e andiamo al pannello di InfoView. Questo pannello ci informa sui vari aspetti della nostra città. La produzione di elettricità e quanto ne consumiamo, per l'acqua sopra in blu e in verde acqua invece delle fognature, il tasso di criminalità e la capacità delle nostre stazioni di pulizia per contenere, diciamo, i ladri. Questo è per i nostri vigili del fuoco. Vediamo che c'è un rischio molto basso di incendi, anche se in queste zone il rischio poi non è così tanto piccolo. Peggio ancora qua su, che è la nuova zona che ho costruito. Questa è la sanità della nostra cittadina, come possiamo dire, è una buona sanità sul 75%, con 1.400 posti nelle nostre cliniche, nei nostri ospedali e soltanto 22 malati. Un tasso di mortalità abbastanza nella media, con una capacità che può ospitare abbastanza bene i decessi, può sostenere i decessi. Questa è la sanità dei bambini e la sanità degli anziani. Educazione. Educazione è molto importante perché man mano che noi andremo avanti con la nostra città, gli edifici miglioreranno e questi edifici necessiteranno di cittadini sempre più speciali. Educate, viene detto nel gioco. Quindi noi, per far fronte alla richiesta di questi lavoratori, o vediamo qua, eccolo qua, di cittadini, noi dobbiamo creare scuole. Come possiamo vedere, io sono molto sul limite nell'ambito di scuole elementari. Sono messo abbastanza bene in ambito delle scuole superiori. Università ha una buona capacità di 9000, quindi sono messo bene da quel punto di vista. Ho le librerie che sono sempre positive per quanto riguarda la felicità e l'educazione. Se infatti noi andiamo a vedere su questo edificio, questa iconcina, mi dice che questo edificio ha bisogno di più lavoratori dotati di un'educazione più alta. infatti il pannello mi dice che hanno bisogno di due highly educated workers e un educated workers. Quindi diciamo che questo viene soddisfatto con l'università, questo con la scuola elementare, se non ricordo male. Quindi bisogna fare attenzione al livello scolastico della nostra città. Mentre qui, vediamo che è il rosso, questo qui ha bisogno semplicemente di più lavoratori. E come possiamo vedere giù nel pannellino verde, io ho bisogno di molte case, quindi molti cittadini. Dunque, info view, torniamo da te. Questo è la popolazione, ci dice come è distribuita la nostra popolazione. Molto semplice. La felicità, 85-75, questo qui va a incidere, è influenzata da vari aspetti come, per esempio abbiamo visto i cimiteri possono dare un bonus di felicità, i parchi danno un bonus felicità, i centri educativi, le librerie, tutti edifici che comunque noi possiamo vedere semplicemente cliccando. Ecco qui, per esempio, vediamo il parco, felicità, si, faccina verde, e questo è il bonus che può dare la felicità a questa interna zona. Dicevo, anche i cimiteri danno un bonus, cimiteri che, eccolo qua, come abbiamo visto, c'è questo simbolino. Questo simbolino significa che il cimitero non ha più spazio per i deceduti. Come possiamo vedere abbiamo raggiunto la capacità di 3.000 su 3.000. Ora, se noi volessimo far funzionare nuovamente questo cimitero, dovremmo svuotarlo, però dovremmo costruire un altro cimitero affinché accolga, diciamo, i deceduti di questo. Per far, diciamo, funzionare meglio questa situazione ci viene in aiuto il crematorio dove appunto i deceduti vengono cremati e quindi non si crea un un ingombro, sì, diciamo, una capienza eccessiva. Questo aspetto lo ritroviamo anche su sì, è un brutto esempio da fare, però lo ritroviamo anche su le discariche. Discariche che, come appunto detto per i cimiteri, hanno la loro capienza e una volta che hanno tutto pieno non possono più funzionare. Per farli funzionare dovremmo svuotarli o anche soltanto distruggerli. Dovremmo aspettare che si svuotino. E questo è un problema perché andando di nuovo su InfoView i cimiteri cimiteri no le discariche creano inquinamento sul territorio e quindi bisogna fare attenzione affinché centri abitativi non siano confinanti con le discariche altrimenti i nostri cittadini si ammaleranno gravemente. Uno per togliere poi un non so se qui è un esempio ecco qua per togliere poi questo edificio è questa discarica uno deve andare bloccarla quindi premere off con triangolo e incominciare a svuotarla io per esempio adesso sono arrivato al 43% finché non viene svuotata questa discarica non può essere distrutta spostata quindi bisogna fare attenzione dove si colloca questo tipo di edificio fortunatamente una volta che avrete sbloccato gli incineritori non avrete più questo problema c'è sempre il problema dell'inquinamento ma basta collocarlo in una zona isolata e il problema è risolto continuiamo con info view cosa abbiamo qui l'end value quindi il valore del terreno su cui abbiamo edificato questo se non sbaglio può incidere anche su la tassazione e cose varie così questo ci dice semplicemente gli edifici unici che abbiamo costruito per esempio questo è il centro dell'expo questo è un parco speciale cose così parchi e piazze come possiamo vedere librerie pubbliche questo è diciamo utile per tenere un attimo d'occhio cosa abbiamo costruito e dove queste sono le linee di trasporti come possiamo vedere abbiamo qui un centro degli autobus con la sua linea ne abbiamo un altro qui con la sua linea blu questa è una stazione questo invece è un deposito dei taxi dove ho costruito delle fermate dei taxi una qui una qui una qui e una qui mi pare strano vabbè ci dice poi il pannello quanti cittadini e quanti turisti utilizzano i nostri mezzi pubblici questo è il traffico come possiamo vedere siamo messi abbastanza bene a parte queste zone qui ecco come dice no non l'ho ancora detto qui c'è un gran problema di traffico che penso si possa far risalire a ad an highway si credo che sia dovuto a un fatto che questa strada è troppo eh si è un'unica corsia quindi creo una lunga coda dovrei diciamo modificarla tornando un attimo al traffico si dovrei modificare questa corsia però nel complesso è messa abbastanza bene questa città ovviamente la rotatoria come sempre per le strade se uno vuole dare uno sguardo più nel dettaglio si seleziona una strada si preme triangolo e si va su intersezioni e uno qui si decide appunto come gestire il traffico qui per esempio c'è un semaforo uno che ne so può togliere il semaforo e mettere lo stop a questa strada così quelli che vengono qui hanno la precedenza oppure non lo so mettiamo lo stop a questa strada che non si può qui perché questo è qui un altro tipo di monona di strada questo lo tolgo così insomma uno vede come si può aggiustare il traffico nelle varie zone non so per esempio qui mettiamo lo stop così questo l'abbiamo messo e ok le strade rialzate le strade sotterranee ne abbiamo parlato la stessa cosa si può fare per i treni se non ricordo male si continuiamo con info view questo è il livello di strade la manutenzione quindi questo incide sullo spostamento spostamento che quindi riflette anche l'arrivo di risorse alle varie fabbriche infatti qui le strade fanno schifo lo possiamo dire molto semplicemente quindi c'è un problema di arrivo di risorse ecco per esempio qui questo abbiamo visto già in precedenza le varie no correnti flussi di spostamenti uno si li vede quello che abbiamo visto prima come abbiamo detto la produzione di rifiuti l'inquinamento del terreno che bisogna fare attenzione anche questi erano se non sbaglio si le fognature producono come ovvio che sia inquinamento io qui ho posizionato dei depuratori che vanno quindi a migliorare la situazione delle acque inquinate infatti diciamo l'inquinamento è molto meno grave di quello che potrebbe essere questo è il vento utile per costruire paleoliche questo è le risorse che ci servirà ma no questo è l'altezza dei terreni del terreno questo è l'inquinamento acustico le risorse che questo ci è utile per costruire distretti come abbiamo visto qui abbiamo costruito dei distretti atti a produrre materiali di falegnameria quelle cose varie se per esempio andiamo a vedere qua giù adesso il terreno è chiuso però questa zona blu è per estrazione mineraria mentre questa ecco questa macchialina qui queste macchialine qui sono per l'estrazione di petrolio uno nell'andare a costruire questi distretti devi soltanto premere questi se lo disegna uno così e poi dà l'indicazione di produzione di in questo caso è foresteria vediamo altri aspetti non mi vengono in mente direi che ho trattato abbastanza tutti gli aspetti di questo gioco i vari pannelli direi di sì ultima cosa beh uno preme touch screen e poi c'ha la free camera la cinematic view si può fare una passeggiata oppure un giro in macchina speriamo che non mi capi di nuovamente insomma carinetta fino a un certo punto e noi si fa un giro per la città come vuole lui va bene direi che per questo tentativo di tutorial per la console edition è tutto spero che sia utile se ci sono domande proverò comunque a rispondere nei limiti delle mie capacità perché alla fine io non sono tutto questo grande espertone nel gioco però insomma se posso dare qualche consiglio qualche dritta sono disponibile ok da qui è tutto e possiamo chiudere ok Grazie.